Il Presidente nazionale di FIMA, Santino Taverna. Buongiorno a tutti, grazie Paolo. Due Paoli. Oggi con il Decreto Legislativo 90, la normativa antiriciclaggio, è diventata più razionale e funzionale anche per la categoria degli operatori immobiliari. L'obbligo principale di adeguata verifica della cliente era subito lievi variazioni in ordine al momento in cui deve essere effettuata. Ma sono stati meglio disciplinati i criteri per l'individuazione dei titolari effettivi delle società. Ecco, questo è stato infatti, era un aspetto che ovviamente creava delle problematiche e è stato previsto l'istituzione di un'apposita sezione nel REA, nel Registro delle Imprese, per permettere ai soggetti obbligati di poter accedere più facilmente a questa consultazione. Comunque saranno gli autorevoli relatori presenti al tavolo che poi approfondiranno il tema ed entreranno nella tematica per orientare gli operatori alla corretta interpretazione. Però sarebbe comunque opportuno ed auspicabile che in merito all'obbligo per la clientela di fornire per iscritto le informazioni necessarie per adempiere la normativa, ci fosse anche la disponibilità della pubblica amministrazione a contribuire con un'adeguata informativa verso i cittadini per sensibilizzare la maggior disponibilità. Perché non è nemmeno corretto e giusto che tutto debba rimanere sulle spalle degli operatori per convincerli ad adempiere ad una normativa che di fatto compete anche agli stessi fruitori del nostro servizio. E su questo aspetto io dico anche che gli agenti immobiliari si sono sempre adeguati agli adempimenti di cui sono stati investiti, in cui sono stati coinvolti, ma si sono trovati spesso da soli a fronteggiare la scarsa collaborazione della clientela soprattutto che quando disinformata dimostra reticenza nel prestarsi ad assolvere gli obblighi della disciplina. E si deve anche prendere atto della continua indisponibilità delle istituzioni per permettere alla categoria di poter erogare dei servizi d'eccellenza, non solo nell'interesse dei cittadini, ma anche e soprattutto nell'interesse della stessa pubblica amministrazione. Mi riferisco per esempio alla richiesta, rimasta tutt'ora in evasa, tutt'ora in attesa di risposta, per permettere anche agli operatori immobiliari di poter accedere alla consultazione della schede catastale per via telematica, come già consentito ai geometri, architetti, ingegneri e ai notai. Io lo ritengo un passaggio estremamente importante, non solo per facilitare le verifiche a tutela delle parti coinvolte nella compravendita, ma anche per permettere a noi operatori immobiliari di contribuire a rimediare le molteplici incongruenze che emergono spesso tra le schede catastali presentate all'Agenzia delle Entrate e l'edificato sul territorio. E dato che qualche operatore è già stato coinvolto in giudizio per le incongruenze emerse sull'immobile veicolato sul mercato, io ritengo che sarebbe opportuno che anche gli operatori immobiliari fossero agevolati nell'utilizzare gli strumenti necessari. L'agente immobiliare infatti è il primo soggetto a visitare un immobile che deve essere compravenduto ed è pertanto in grado, con le schede catastali, se dovessimo essere facilitati anche nel poter avere questa disponibilità, ad essere facilitato non solo a rilevare le eventuali incongruenze o difformità, ma anche per poter suggerire le possibili soluzioni coinvolgendo gli altri attori della filiera. Ognuno ovviamente nel rispetto dei propri ruoli. Quando si chiede qualcosa alla categoria si deve sempre essere disponibili e scattare sull'attenti, mi viene voglia di dire. Quando è la categoria a chiedere qualcosa alla pubblica amministrazione, tra l'altro nel reciproco interesse, purtroppo si tende a fare orecchie da mercante. E ripeto che la categoria è sempre stata disponibile alla collaborazione con le istituzioni e la pubblica amministrazione. Oltre all'antiriciclaggio, coinvolta nella responsabilità insolida con le parti per la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale, è sempre disponibile e presente nelle commissioni dell'OMI, l'osservatorio del mercato immobiliare, per fornire semestralmente i dati sull'andamento del mercato. Ed è di questi giorni anche la normativa sulle locazioni brevi, con gli operatori di nuovo relegati nel ruolo di sostituti di imposta per contribuire alla lotta all'evasione fiscale. E di questa nuova incombenza sulle locazioni brevi, l'aspetto più deleterio è vedere legittimare, con la veste di sostituto di imposta, l'esercizio abusivo di questa attività. Perché questo è il tema grave. Cioè, tu sei sostituto di imposta, quindi a prescindere dall'abilitazione della 39-89, l'importante è che tu sia un sostituto di imposta che versi quello che deve essere stato lo Stato. E poi ognuno è libero di fare quello che vuole. E questo penso che sia ancora più grave, al di là dei tempi o delle incombenze con cui è stata dotata la normativa, senza nemmeno prestare attenzione o ascoltare le parti coinvolte ed interessate. Io lo dico in maniera molto serena, tra l'incombente che capita sugli operatori immobiliari e legittimare l'abusivo, non c'è dubbio che bisognerebbe perseguire, impedire l'esercizio abusivo dell'attività. Non c'è benvenga l'incombente se non ci sono gli abusivi. Io la penso in questi termini. Perché, dato che il Codice Civile recita che il mediatore è colui che mette in relazione due parti, per la conclusione di un affare, i portali che operano con questa modalità, incassando compensi ad operazione avvenuta, quando in assenza dell'abilitazione della 39-89, sono da considerarsi semplicemente degli abusivi. Io non ho altre parole con cui definirli. E se a questo si aggiunge anche l'obbligo per gli operatori immobiliari italiani, penso l'unica categoria al mondo, di dover dichiarare in atto notarile l'entità dei compensi percepiti, in sfregio anche la normativa della privacy, è sempre più difficile poi rendersi consenzienti a nuove incombenze che sottraggono ovviamente tempo, lavoro e denaro al nostro lavoro quotidiano. E penso che non sarebbe male se qualcuno decidesse di mettere in mano queste normative che continuano a discernere tra figli e figliastri i contribuenti di questo Paese, con palesi disparità verso altri soggetti o categorie che operano in questo comparto. Perché non anche i falegnami? Perché non anche i notai? Perché non anche i piastrellisti? Allora che dichiarino anche loro il compensinato notarile come siamo obbligati noi. e penso anche che una volta dichiarato il nome dell'agente o dell'agenzia immobiliare con il numero di iscrizione a REA e i dati della fattura emessa, io ritengo che si possa ritenere esaudita la razza di una legge che continua a provocare la scradevole sensazione di essere considerati dei sorvegliati speciali. Scusatemi ma è un'amarezza che ogni tanto sarebbe opportuno ricordare per non farla cadere nel dimenticatoio. Io ritengo che l'agente immobiliare sia una fonte inesauribile di dati e di informazioni che altri soggetti non hanno ed è un vero e proprio attivatore economico e sociale che alimenta, come ha sempre fatto, l'economia del Paese. È un acceleratore delle operazioni, delle compravendite grazie alla propria capacità di agevolare gli scambi dei prodotti di cui, come nessun altro, conosce i valori di mercato. Gli agenti immobiliari sono operatori in grado di stimolare, compensare ed ovviare anche le incertezze della clientela garantendo la bontà delle operazioni nelle quali sono spesso coinvolti i risparmi e i sacrifici di una vita delle persone come nell'acquisto della casa. E in questi anni di crisi, mi permetto anche di dire, che gli agenti immobiliari hanno anche contribuito a salvaguardare il valore del patrimonio immobiliare dei cittadini cercando di difendere i prezzi immobiliari dai ribassi speculativi. E sul decremento dei valori, non volevo dirlo ma la dico, la politica dovrebbe guardare anche verso chi ha erogato negli anni denaro facile senza doverne rispondere e limitare, se non impedire, ad alcuni soggetti digerire in altri comparti dell'economia per non ritrovarsi poi, un'altra volta, con altri conti da pagare sulle spalle della collettività. Nel corso del 2016, perché non è ancora finito, siamo in una fase di ripresa, ma gli effetti di questa crisi si sentono ancora, perché nel corso del 2016 sono state più di 260.000 le sedute d'asta giudiziarie per crediti concessi su immobili poi andati in default. Ed è un'onda lunga questa, senza toccare il discorso degli NPL che arriveranno sul mercato. Circa 70.000 immobili, si parla, aggiudicati nel corso del 2016 alle aste giudiziarie. È vero che si tratta comunque di compramendite, ma bisogna anche dire però che non è certo tramite queste procedure che si può contribuire alla stabilizzazione dei prezzi. E io chiudo con l'invito per gli operatori di perseguire come primo obiettivo il consenso dei consumatori, un fattore indispensabile per le sorti di questa attività, dico io. I fruitori del servizio sono la prima vera ricchezza di ogni operatore. E in questa proiezione è necessario che tutti, nessuno escluso, operino in questa direzione per tutelare la categoria e permettere alla stessa di interagire in quote maggiori di mercato. Non dimentichiamo che nell'interazione siamo sempre, rimaniamo sempre fanalino di coda dell'Europa. Serve non solo per il futuro della federazione, della professione, ma è altrettanto importante per amplificare la voce della categoria nel rapporto con l'istituzione e la pubblica amministrazione. Gli agenti immobiliari sono soggetti indispensabili per la funzionalità del mercato. E nell'attesa che la politica possa dedicare un briciolo d'attenzione in più anche verso questa categoria senza caricarla di ulteriore incombenze continuiamo a cercare di contribuire alla ripresa di un settore capace di produrre il 20% del PIL italiano. Anche questo potrebbe permettere alla categoria di riappropriarsi della dignità che questa attività si merita. Grazie per l'attenzione.